Alessia Pupo, Vice Sindaco, una bella notizia per la città di Tolentino. Sono arrivati i finanziamenti sia della Regione Marche per la sistemazione del campo coperto in zona Sticchi che del Bando Ministeriale Sport e Periferie per la sistemazione e l'efficientamento energetico del Palasport Chierici. Sì, diciamo un regalo grandissimo di fine anno per tutta la città di Tolentino. Infatti il Comune di Tolentino ha vinto il Bando Sport e Periferie 2023, Bando Nazionale del Dipartimento dello Sport e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi avremo un contributo a fondo perduto di 700 mila euro. A questo fondo si aggiungeranno ulteriori fondi comunali per un importo complessivo di 900 mila euro dove eseguiremo un progetto di riqualificazione del nostro Palasport Giulio Chierici. Era una promessa che avevamo fatto in campagna elettorale, una promessa che quindi manteniamo, lavori che saranno quindi volti anche non solo all'ammodernamento della struttura, ma anche all'afficientamento energetico, quindi per ridurre i costi e per una gestione sostenibile dell'impianto, risolvendo anche qui problematiche annose che inficiavano anche sull'attività sportiva. Per noi il Palasport è un luogo molto importante dove si svolgono non solo manifestazioni sportive ma anche altre manifestazioni, è utilizzato dalla scuola, è un luogo di aggregazione e di inclusione. Quindi il nostro intento, il nostro intento politico-amministrativo, che avevamo detto anche in campagna elettorale, non era assolutamente quello di venderlo ma di riqualificarlo e quindi un passo concreto. E permettetemi di ringraziare, perché vincere un bando così importante non è mai semplice, un bando nazionale, gli uffici, in particolar modo l'ufficio tecnico per lo straordinario lavoro svolto e poi l'ufficio sport per la parte che appunto riguardava lo sport. Altra notizia, qui dobbiamo ringraziare la Regione Marche perché ha stanziato ulteriori fondi e quindi tutte le domande ammesse saranno finanziate per la misura 3.2022, tra le quali appunto quella del Comune di Tolentino. Qui arriverà un contributo a fondo perduto di 100.000 euro, qui si aggiungeranno ulteriori fondi comunali e anche qui saranno destinati, alla riqualificazione di un altro impianto sportivo che attendeva da anni un dei lavori che è quello della tenzostruttura e il campo coperto al Cionmei in località Sticchi. Anche qui risolviamo un problema che si ripercuoteva e che è stato posto anche all'attenzione pubblica recentemente perché c'era il problema delle infiltrazioni. Quindi accanto a questo noi siamo consapevoli chiaramente che servono ulteriori spazi per le attività sportive. Con l'assessore Giombetti ci stiamo concentrando per riaprire uno spazio importante che è quello della palestra dello stadio che era chiusa al 2016 per il terremoto e chiaramente insieme al Sindaco e tutta la Giunta stiamo lavorando per nuovi spazi, per una nuova impiantistica sportiva. In conclusione quindi nel 2024 vedrà l'investimento da parte dell'amministrazione Sclavi di un milione di euro per l'impiantistica sportiva.